E ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite E qui è il vostro Tarcone e adesso non è che vi parli In questo video ragazzuoli andremo a parlare di Travis Scott Ebbene si ragazzuoli è stata rivelata la data di uscita di Travis Scott Ma prima che il video inizi vi ricordo di iscrivervi al canale E di attivare la campbellina su tutte le notifiche Così da non perdervi nessuna notifica riguardante il canale Vi ricordo di condividere il video con tutti i vostri amici Così i vostri amici sapranno anche quando esce Travis Scott Ma soprattutto vi invito a commentare facendomi sapere Se andrete a shoppare questa skin fantastica Come vedete io già l'ho shoppata la prima volta che è uscita Ed è fantastica Anzi me l'hanno regalata Preciso anche che me l'hanno regalata Perché poi mi è andata a dire sotto nei commenti Ma quella suite l'hanno regalata Vi ricordo anche ragazzuoli di andarmi a supportare Nenne con soggetti con il cogi creatore più bello e fresco in Italia The Dark 2605 Infatti B si è tolto anche a me Quindi inserite l'ansieme a me nello shop E quando andrete ad acquistare Travis Scott Taggatemi nelle vostre storie Instagram Facendo un video Detto ciò ragazzi Ci si becca in game Per dirvi tutte le news riguardanti Travis Scott Ed eccoci in game ragazzuoli Per andare a parlare di tutte le news E della data uscita di Travis Scott Dunque ragazzi Come ben sapete La skin di Travis Scott L'ultima volta uscita È stata per l'evento Astro World Insieme alla skin di Travis Scott È uscita anche la skin di Astro Jack Dopo quell'evento la skin non si è più presentata all'interno dello shop E adesso uno dei più famosi leaker di Fortnite Apex Ha rivelato che la skin potrebbe uscire il 10 febbraio Ma prima di passare ad altre news Vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale Perché manca poco agli 11.000 iscritti Quindi fate diventare il tasto rosso e iscriviti grigio Lasciate un bel like a questo video Condividetelo con tutti i vostri amici Per far sapere anche ai vostri amici Quando uscirà la skin di Travis Scott e Astro Jack Inoltre vi invito anche a seguirmi su Instagram YtDark88 e seguirmi su Twitch Dark88-Twitch Allora ragazzi ritorniamo Al fatto che Travis Scott potrebbe uscire il 10 febbraio Perché proprio il 10 febbraio? Perché in America, nel Missouri e nel Texas Il giorno del 10 febbraio è identificato come Travis Scott Day Ovvero ragazzi sarà un evento In cui sicuramente Travis Scott andrà a fare un concerto E quindi probabilmente ragazzi Troveremo la skin di Travis Scott Con Astro Jack all'interno dello shop domani Comunque ragazzuoli Ogni volta che Apex dice qualcosa Si avvera perché ha dei contatti Con persone all'interno dell'Epic Games Che gli passano informazioni riguardante Tutte le news di Fortnite Che noi non sappiamo Quindi ragazzuoli il video di oggi è giunto a termine Spero che vi sia piaciuto Se così fosse vi invito ad iscrivervi al canale Perché manca poco agli 11.000 iscritti Vi prometto che se questo video arriva a 150 like Regalerò una skin di Travis Scott Tanto lo so che non ci arriveremo mai Ma vi ricordo anche di attivare la campbellina Su tutte le notifiche Così in caso se domani andiamo a regalare La skin di Travis Scott Sarete aggiornati su quando vado in live Vi ricordo anche di supportarmi come creatore In caso uscisse la skin di Travis Scott Così vi raccomando Shoppatela con il mio codice Perché se shoppate con il mio codice E diventate dei pro player su Fortnite Quindi TheDark2605 Andatemi a seguire anche su Instagram YtDark88 Seguitevi anche su Twitch Dark88 Rattino basso Switch E se volete avere un 10% di sconto Sulle bevande e biped Utilizzate il codice Dark88 Yt tutto minuscolo Detto ciò ragazzuoli Ci si becca Al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti